Sì, buon pomeriggio Gigliola, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano all'ascolto in diretta al TG8. Parliamo di calciomercato, parliamo di Pescara perché la squadra è tornata ad allenarsi il primo gennaio in vista della ripresa del campionato prevista il prossimo 15 con la trasferta a Pesaro. La grande novità è Cristiano Delgrosso, un nuovo vice allenatore di Auteri. Prende il posto di Damiano Proto che è stato costretto a rinunciare all'incarico per motivi strettamente personali. Cristiano Delgrosso, 228 presenze in Serie A, vestito la maglia del Pescara da calciatore, attualmente era l'allenatore del gruppo dell'Under 16, dunque Delgrosso, nuovo vice di Auteri. Il calciomercato poi, Marilungo Gigliola, è vicinissimo all'accordo con il Teramo, l'attaccante ex Carrarese e Ternana lascerà dunque il Pescara, andrà in bianco-rosso, mentre sembra sempre più difficile la firma di frascatore. Le due società continuano la trattativa, nel senso che tra Teramo e Pescara l'accordo c'è, bisogna trovare quello con il calciatore. Si era parlato anche del centrocampista Rizzo in uscita dal Pescara, se n'era parlato a dire il vero qualche giorno fa, ma al momento un eventuale passaggio di Rizzo al Teramo appare comunque difficile. Le priorità in Casa Biancazzurra dopo l'arrivo di Carlo De Rizio, che sarà domani in città, il centrocampista trentenne di proprietà del Bari sarà subito a disposizione di Auteri. Dicevamo, le priorità ora sono le uscite. Detto di Marilungo e del tentativo con Frascatore, la società sta cercando una sistemazione a Cristian Galano, ci sono alcune squadre di Serie B interessate, tra queste anche la Ternana di Luca Leone. In entrata torna in stretta attualità il nome di Gori del Cosenza, ma il giovane attaccante che ha realizzato cinque reti in Calabria vuole restare in Serie B qualora dovesse uscire da Cosenza. Il Cosenza sta cercando comunque un attaccante centrale, quindi il minutaggio di Gori potrebbe risentirne. Il Pescara, qualora dovesse presentarsi la possibilità, è prontissima a portare in Biancazzurro Gori, ma al momento è più un sogno che non una trattativa vera e propria. La notizia, però, la ribadiamo, è quella che abbiamo dato in apertura, ovvero che Cristiano Del Grosso è il nuovo vice allenatore del Pescara, è il nuovo vice di Gaetano Auteri e prende il posto di Damiano Proto. Se non ci sono domande, Gigliola, ti restituisco la linea. Grazie.